Marche alle Olimpiadi con Tamberi portabandiera azzurro Ennesima aggressione ad infermiere del pronto soccorso di Pesaro Albergatore contro il comune si teme stagione turistica di occasioni perse Da Ricci a Seri ecco pesaresi e fanesi candidati alle europee Sport per WL e Vispesero si fa sempre più dura Una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Riparto una nuova settimana in compagnia dell'informazione di Rossini News Il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di lunedì 22 di aprile Apriamo con una notizia che gratifica lo sport della nostra regione Perché lo sportivo marchigiano Gianmarco Tamberi Oro Olimpico nel salto in alto a Tokyo Sarà il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di apertura Delle Olimpiadi 2024 di Parigi del prossimo 26 luglio Sarà però un doppio portabandiera assieme a Tamberi In riva alla Senna ci sarà anche la campionessa di scherma Arianna Errigo Una scelta quella del doppio alfiere uomo-donna Replicata dall'Italia per la seconda Olimpiade consecutiva Gratificazione anche per la regione Marche E che ha in Tamberi il suo testimonio al turistico a livello internazionale E passiamo alla cronaca andando su Pesaro Dove il weekend appena trascorso ha segnato purtroppo Un nuovo episodio di aggressione al personale sanitario Del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore Ennesimo episodio di aggressione al personale sanitario Delle strutture ospedaliere Questa volta è stata un'infermiera del pronto soccorso di Pesaro Ad essere stata malmenata e presa a calci da una 32enne straniera fuori controllo Arrivata per una visita ma che ha dato in escandescenze Prendendosela con la malcapitata operatrice sanitaria Che ha rimediato lesioni per sette giorni di prognosi Infermiera che è stata aiutata dai colleghi nel disinnescare la furia della 32enne Che è stata poi arrestata dai carabinieri Un episodio avvenuto nella notte fra sabato e domenica Al quale oggi è piovuto una pioggia di solidarietà e sdegno A cominciare dalla direttrice generale Nadia Storti Che in un comunicato ha enfatizzato Quanto si continuerà a promuovere e mettere in campo Ogni strumento possibile per creare un ambiente di rispetto e sicurezza Per tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario Nonostante siano già operativi tutti gli strumenti Che la legge ad oggi consente di avviare Dalle telecamere ai presidi di forze dell'ordine Solidarietà alla quale oggi si è accompagnata quella della politica regionale Non possiamo minimamente abbassare la guardia Su questi gravissimi fatti di cronaca Che riguardano i nostri operatori sanitari Che già sono costretti a fare un lavoro complesso Difficile in un momento particolare Quindi ho portato i saluti da parte della regione Marche Più che saluti la vicinanza Da parte mia, da parte dell'assessore Salta Martini Presidente Acquaroli E tutta la regione, il consiglio regionale Per esprimere tutta la solidarietà A questi ragazzi che si trovano spesso anche in queste situazioni Abbiamo parlato anche con il primario, il dottor Tito Un po' delle problematiche che rivestono il pronto soccorso Su quello che la direzione sanitaria sta già facendo Per cercare di formare un deterrente per queste cose Per queste situazioni E mi sono permesso di parlare, di evidenziare Che è un problema che da un lato deve essere risolto Come struttura, come deterrenza, con telecamere E altre situazioni Visto che comunque la guardia H24 è stata introdotta Ma sicuramente non è sufficiente Perché se all'esterno dell'ospedale Ci ritroviamo in situazioni di degrado Come sto vedendo in questo momento Sicuramente è un lavoro molto difficile da portare a termine Quindi da un lato la direzione sanitaria deve fare il suo Per proteggere i propri detendenti Dall'altra parte le forze di polizia Il comune stesso Devono percepire che questa è una zona assolutamente degradata E l'ingresso continuo di questi avventori Che vanno a disturbare gli operatori sanitari Non può essere più tollerabile Ed è un'area quella attorno all'ospedale Che punta a riqualificarsi anche con interventi strutturali Come quello del sottopasso ferroviario dei Cappuccini Tornato fruibile sabato Al pari delle cavalca ferrovia Tornato invece transitabile a quattro corsie Dopo anni di lavori il cavalca ferrovia de sabata È tornato transitabile a quattro corsie E nel riaprirsi al traffico completo Si trascina anche l'apertura del sottopasso dei Cappuccini Ampliato e riqualificato Con tanto di ritorno alla normalità del traffico Su via Cardinal Massaia Niente taglio del nastro Inossequo alle regole di campagna elettorale Comunque additate come violate Dai candidati politici del centrodestra In base alle regole sulla parcondicio Che vieterebbero inaugurazioni in questo periodo Niente taglio del nastro Ma una festa in musica Per riaprire un sottopasso ferroviario pedonale Per un intervento da 884 mila euro Che ha risolto problemi relativi alle barriere architettoniche Potenziando la fruibilità del sottopassaggio Ora largo 3 metri, lungo 102 e con pendenza delle rampe dell'8% Un'area che ora si arricchisce anche di un nuovo deposito per biciclette A servizio della mobilità urbana Festa di riapertura completata dalla luce emanata dalla statua Della Madonnina dei Cappuccini Che è tornata ad illuminarsi Grazie all'intervento congiunto del Lions Club Pesaro della Rovere E della Tecno Impianti SRL di Vallefoglia Lions che già si erano fatti carico del restauro della statua La cui corona era stata sfregiata dal terremoto di novembre 2022 In agosto la statua era stata riparata Ora è tornata anche al suo splendore notturno Nella notte appena trascorsa Quella appunto tra domenica e lunedì C'è stato un tentativo di furto sventato Negli uffici pesaresi della Omni in via degli Abeti Poco prima di mezzanotte La centrale operativa della Vigilar Ha ricevuto infatti un allarme furto Relativo alla porta vetrata d'ufficio Dall'esame delle registrazioni è stato notato Un individuo intento a cercare di forzare la porta Per poi fuggire correndo appena scattato l'allarme Cambiamo argomento Siamo alle porte di festività come 25 aprile e primo di maggio Un momento in cui gli albergatori pesaresi Incalzano l'amministrazione comunale In merito a diverse lacune Che rischiano a loro dire Di far trovare impreparata la città Al via della stagione turistica Pasqua ha già acceso le prime spie d'avvertimento Su una città non ancora pronta alla stagione turistica E quello che pensano gli albergatori di Pesaro Riuniti sia alle porte del 25 aprile e primo maggio Per mettere in chiaro preoccupazioni e necessità In un'estate da capitale della cultura Che rischia di scivolare via come state delle occasioni perse Al Charlie Urban Hotel Il presidente dell'APA Paolo Costantini Ha riunito la categoria per presentare il documento Consegnato alla stessa amministrazione comunale Dal titolo Richieste urgenti per la stagione estiva 2024 E proposte di miglioramento per il turismo Assieme agli albergatori Fabrizio Liva Loredana Ceccarelli Roberto Signorini E il padrone di casa Nardo Filippetti Hanno messo l'accento su alcuni macro problemi A cominciare da un'attrattività dei luoghi chiave Reputata non all'altezza Fino ad una insoddisfacente gestione di quiete ordine pubblico Soprattutto bisogna prendere delle decisioni Bisogna ormai definire quello che sarà l'arredo urbano Per quanto riguarda la zona mare Non solo nel lato di Ponente Ma anche nel lato di Levante Che ad oggi ancora Oltre a Piazzale d'Annunzio è sguarnito Ci sono varie idee, vari progetti Abbiamo necessità di avere ormai la versione definitiva Per poter anche organizzare le varie attività Pasqua è passata Ci sono stati dei problemi di accoglienza urbana Più che di accoglienza turistica La città non era pronta Siamo vicini al punto del 25 aprile Dove sicuramente arriverà parecchia gente Per vari tipi di turismi E ancora la città non è pronta La cosa che ci dispiace di più È che ancora una volta Si va verso la penalizzazione Per la quale noi siamo d'accordo Ma in realtà sulla rieda urbana Su una serie di questioni Praticamente non si sono stati consultati Così non si sono stati consultati Anche rispetto ad alcune opere già esistenti Che comunque vanno riviste, rispolverate E diciamo va fatta manutenzione Il collegamento tra la palla di pomodoro E il centro storico Che è la via più passeggiata della città È in condizioni pietose La stessa palla di pomodoro I giardini non sono pronti E quindi io direi che Ha detto bene Giovannelli Che questa non è la città del noi Ma la città dell'io Dove l'amministrazione Continua ad amministrare Non consulta le categorie E quindi ci troviamo in questa situazione Probabilmente anzi In questo momento Perché siamo verso le elezioni Ha provveduto a concentrare i cantieri Quindi chiudendo anche altre situazioni importanti Riferite alla cultura Pensiamo al conservatorio Dove non si può nemmeno accedere nella prima parte Pensiamo ad altre opere comunque che sono in città Temi ai quali si aggiungono Una programmazione pluriennale Sulla promozione della città Quale destinazione turistica Investimenti sul lungomare Sulla difesa della costa Sulla gestione dei decibel dell'ascolto musica Altro dente che duole La gestione delle aperture museali I luoghi della cultura Sono aperti ad orari definiti Noi quello che chiediamo È di avere un orario continuato Per poter consentire ai turisti Di visitare in tranquillità Tutti i musei E tutti i luoghi della cultura Oltre ovviamente ad alcune Aperture serali Attualmente è prevista Un'apertura straordinaria su chiamata Ma capite bene che Un turista che viene per un giorno o due Che alloggia una notte o due a Pesaro Dover prenotare con 48 ore di anticipo Per poter visitare un museo È molto difficile Quindi crediamo che per poter Aiutare un po' La fruibilità di tutti i luoghi Della nostra città Sia bene avere un orario continuato E i musei sempre aperti Il bosco che cammina È l'installazione itinerante Che sabato scorso ha iniziato Il suo viaggio dalla caserma Del 28esimo reggimento Pavia Fino a Piazza del Popolo Inizio in tono minore Rispetto alle previsioni Perché a causa delle avverse condizioni meteo È stata trasportata in centro storico Solo una dozzina dei cento alberi Che per quattro mesi Occuperanno spazi senza verde della città Fino all'alberghiero Santa Marta Dove, a detta degli organizzatori Non verranno sottratti spazi ai parcheggi È ufficiale Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci È nella lista dei candidati Del Partito Democratico Scelti dalla direzione PD Per il centro Italia Per le prossime elezioni europee Dell'8 e 9 giugno Ieri l'annuncio Della lista dei nomi In cui figura anche un'altra pesarese Come l'ex deputata Alessia Morani Ci sono anche due fanesi Però in lizza per le elezioni europee Si tratta del sindaco uscente Massimo Seri Che corre col partito azione E dell'onorevole Mirko Carloni Candidato invece con la Lega Dalle elezioni europee A quelle amministrative Della città di Pesaro Dove la candidatura sindaco Di centro-sinistra Di Andrea Biancani Viene sostenuta Fra i vari esponenti Della coalizione Dal Partito Democratico E dalla lista Forza Pesaro Con Mila della Dora Due liste che hanno presentato I propri candidati Al Consiglio Comunale 32 candidati al Consiglio Comunale Per il Partito Democratico 29 candidati Con la lista Forza Pesaro Di Mila della Dora Quella di sabato è stata una giornata Di presentazione di volti Nomi e cognomi I due schieramenti Che sosterranno la candidatura Sindaco di Pesaro Per il centro-sinistra Di Andrea Biancani Biancani Che nella sua sede elettorale Di Largo Tremartire Ha ospitato la sua squadra Del PD Con 32 nomi Ben miscelati Fra assessori E consiglieri comunali Uscenti Così come fra giovani Nuove Eleve Sono rappresentati I quartieri Sono rappresentati I territori Abbiamo un'importante Presenza di giovani Abbiamo 7 under 35 Un obiettivo È portare i giovani In Consiglio Comunale Giovani del Partito Democratico Che dobbiamo valorizzare Sostenere Per questo obiettivo È importante La rappresentanza Dei territori Abbiamo rappresentato Tutti i quartieri Della città Siamo arrivati Fino a Montecicardo Abbiamo un candidato Di Montecicardo Di cui sono molto contento Perché il progetto Di fusione Deve essere Concretizzato ulteriormente Deve essere rafforzato E la candidatura Ha proprio questo senso È importante Anche le competenze Che in qualche modo Abbiamo intercettato Dei candidati Delle candidate Abbiamo diversi esponenti Del mondo dell'educazione Insegnanti Diversi esponenti Del mondo sociale Del mondo ospedaliero Mondo dell'economia Del lavoro subordinato Dirigenti di azienda Liberi professionisti Diciamo Rappresentiamo Tutto il contesto cittadino Sui temi Abbiamo ovviamente Un tema principale Che è quello Della valorizzazione Della capitale Della cultura E di tutto quel progetto Non è un caso Che nel simbolo Del PD Abbiamo messo proprio La slogan Un capitale Per la città E ovviamente I temi su cui Contiamo di rimpegnarci Di continuare A dare uno sforzo Importante È quello Del welfare Dei servizi sociali Servizi alle famiglie Servizi educativi E ovviamente Un impegno ancora Da mantenere Nella realizzazione Dei tanti progetti A cui abbiamo Attinto risorse Che già sono iniziati Alcuni stanno iniziando Che sicuramente Cambieranno il volto Di Pesaro Appena due ore prima Nella sala Del consiglio comunale Si sono invece presentati 29 candidati Provenienti Dalla società civile Della lista civica Forza Pesaro Con Mila della Dora È una lista che si ampia Non parlerà solamente Di sport Ma avremo Tanti argomenti Ci piacerà condividere Una cultura ambientale Una cultura intergenerazionale La cultura della famiglia La cultura dello sport Della socializzazione Saranno tanti gli ambiti Che vorremmo trattare È una lista composta Da under 30 E over 70 Quindi c'è ampiezza Nelle generazioni Appunto per dare Un contributo concreto Su quelle che sono Le esigenze Dei giovani Delle persone Meno giovani Ma ognuno Nel proprio ambito Darà il proprio contributo Abbiamo parlato Della necessità Di avere una revisione Del piano regolatore Abbiamo dato anche Quelle che saranno Quelle che saranno Le caratteristiche Ovvero Provare a rifunzionalizzare Quelli che sono I capannoni sfitti In una programmazione Anche una nuova Previsione urbanistica Dare Segnale forte A quelli che saranno Degli spazi verdi Abbiamo scelto Di mantenere La flessibilità La flessibilizzazione Delle destinazioni Gli usi degli immobili Ma poi del nostro Programma elettorale Parleremo anche In un'altra fase Abbiamo fatto un accenno Su quelli che sono stati Gli eventi sportivi Che abbiamo intercettato In questi anni Su quelli che saranno I prossimi Abbiamo anche Tanti elementi Su cui vogliamo Spenderci e lavorare Siamo in una città di mare Siamo in una città di motori Siamo città della bicicletta Tutti elementi Da rivendicare Con orgoglio Abbiamo la pratica Delle discipline sportive Indoor Outdoor La vitri-frigo arena Che è un catalizzatore Importante Di eventi sportivi E quindi Tanto sicuramente Si potrà Continuare a fare Dalla candidatura Di Biancani A quella Della coalizione Di centrodestra Che sostiene Marco Lanzi Che ora trova Il supporto Non scontato Di un partito Come azione Con Calenda La lista Pesero svolta A sostegno Della candidatura Sindaco Di Marco Lanzi Si robustisce Sul sostegno Di azione Il partito Di Calenda Tradizionalmente Sciolto Da poli ideologici Sposa il civismo Della candidatura Di Lanzi Portando i suoi temi Elettorali Attraverso due candidati Al Consiglio Comunale Il segretario cittadino Di azione Pesero Giovanni Amati E l'avvocato Elena Fabri Esperta di tutela Del terzo settore E delle tematiche Di violenza di genere Percorso elettorale Presentato questa mattina Nella sede di Pesero Svolta In piazzale Matteotti Innanzitutto Bisogna partire Dai motivi Che ci hanno Portato A non Presentare Una lista nostra E una candidatura Nostra Sindaco Il rispetto Per i cittadini Non avendo azione Abbastanza Candidati esperti Ed eccellenti In tutte le materie Che servono Per l'amministrazione Di una città Abbiamo ritenuto Che la cosa Benché magari Controproducente A livello Di battagio Pubblicitario Migliore Per il nostro partito Fosse Quella di Sostenere Uno dei due Candidati esistenti E uno dei due Candidati principali Perché Marco Lanzi Sicuramente Per la sua Carica innovativa Per il suo essere civico Per il suo essere Non preda Di logiche partitiche Spartitorie E per essere Una persona Con una visione Di una Pesaro nuova E una Pesaro Più vicina ai quartieri E cittadini In tutti i sensi Noi abbiamo in mente Delle cose molto precise Definite Laddove dovessimo Comunque essere votati Dall'elettorato pesarese In particolare Per quanto mi riguarda Io faccio parte Del terzo settore E la mia volontà È proprio quella Di dare La massima importanza E visibilità A livello cittadino A tutte quelle che sono Le situazioni Legate al terzo settore Quindi andiamo Dalle fasce deboli Disabilità Anziani Bambini E tutti I campi Adesso connessi La mia volontà Sarebbe quella Di creare All'interno Dell'amministrazione Comunale Una vera e propria Task Force Dedicata Che sia In completa Disposizione Non solo Della cittadinanza Ma sempre In collaborazione Con tutte quelle Che sono Le associazioni All'interno Della nostra città Che sono Dell'energia Oggi purtroppo Inespresse Perché purtroppo L'amministrazione Ad oggi Non ha saputo Cooperare Collaborare Dar voce A quelle che sono Le presenze Sul territorio Del terzo settore E questo Lo possiamo vedere Anche da alcune scelte Che sono state fatte Non soltanto Da noi di azione Ma anche da altri candidati Che provengono Proprio da quella Da quel mondo Quasi una cinquantina Di operatori balneari Sono stati ricevuti Da Marche Multiservizi Per fare il punto Sull'avvicinarsi Della stagione estiva Marche Multiservizi Ha infatti avviato Già dall'anno scorso Un tavolo di confronto Con gli imprenditori Con l'obiettivo Di agevolare L'attività Degli stessi E migliorare ulteriormente Il decoro E la pulizia Di spiagge E stabilimenti L'orchestra sinfonica Rossini Ha annunciato I tre vincitori Dei Pesaro Music Awards 2024 PMA Che sono nati Nel 2019 Come premio A personalità Eccellenti Nel settore musicale Che hanno avuto Contatti o legami Con la città di Pesaro Ad essere premiati Sabato 27 aprile Alle 21 Al teatro Rossini Saranno il regista Scenografo e costumista Pierluigi Pizzi L'associazione Italia Festival Terzo premio Invece dedicato Alla memoria Del grande tenore Luciano Pavarotti Torna in concerto A Pesaro Renato Zero Il popolare cantautore Presentando il suo nuovo tour Ha inserito Una performance Alla Vitrifigo Arena Il 26 ottobre Come una delle sue 14 tappe italiane Di autoritratto I concerti Evento E come di consueto Concludiamo Il nostro notiziario Lunedì Con le notizie Di sport Andando a vedere Che cosa è accaduto Per quello che riguarda VL Vi spesero Italservice E Pesaro Rugby Sabato La VL Ha perso la battaglia La domenica Ha però ricordato Che la guerra Non è ancora terminata La sconfitta Pesarese a Tortona Contro la Bertram Per 84 a 77 Viene infatti Parzialmente addolcita Dal concomitante K.O. Di Treviso A Venezia Che ricorda Che c'è ancora speranza Perché se la VL Ora resta incollata Sul fondo A quota 18 punti Pure in compagna Di Brindisi C'è sempre Treviso Che resta appena Due punti avanti L'aggancio E la prospettiva Di salvezza Resta dunque Ancora praticabile In caso di vittoria De Pesaresi Domenica in casa Con Cremona E concomitante K.O. Della Nutriballe Tavarese Insomma Pesaro Ha un'unica via Battere Cremona E incrociare le dita E poi fare altrettanto Anche nell'ultimo turno Che seguirà Ultimo turno Che domenica prossima Servirà alla Vispesaro Invece solo per capire In che posizione Disputare i play-out L'ultima chance Di evitare gli spreggi I pesaresi L'hanno dilapidata Ieri a Vercelli Perdendo col Sestre Levante 3-2 E consegnando la salvezza Diretta ai Liguri Una partita Sull'otto volante Con la Vispie va sotto Dopo 6 minuti Ma ribalta la situazione Con i gol di Gianmarco Neri E Nicastro Che le consentono Di chiudere il primo tempo Avanti 2-1 Ripresa però disastrosa In cui la Vispie incassa Due gol Con la doppietta di Clemenza E due espulsioni Per doppio giallo Di Peixote e Mattioli Partita persa Play-out certi E al 90% Saranno con la Re Canatese Play-off invece Aritmetici Per l'Ital Service Nella massima serie Di calcio 5 I pesaresi Staccano il pass Per la post-season Vincendo sabato A Viterbo 1-0 Grazie alla rete Di OneFran Che erge l'Ital Service Al sesto posto Si chiude invece Al quinto posto La fase Play-in-gold Dell'Ital Service Loretto Basket Dopo aver spugnato Il parquet Del Val di Ceppo Basket 67-94 Ora due settimane Di sosta E poi saranno Play-off Contro Senigallia La domenica Appena trascorsa Regala invece La gioia Della salvezza aritmetica Per la Fiorini Pesaro Rugby Nonostante L'amarezza Della sconfitta Con Rugby Paese 34-17 Capò In terra Trevigiana Adolcita Da risultati Degli altri campi Che certificano Per Pesaro Un altro anno Di Serie A E si conclude qui Questa nostra edizione Del telegiornale Rossini News Del lunedì Prima di salutarci Vi ricordiamo Alcuni appuntamenti In questo 22 di aprile A cominciare Dal magazine La natura Della cultura Il nostro spazio Di approfondimento Sui temi Di Pesaro 2024 Subito dopo il Tg Alle 20 Un nuovo Approfondimento Momento Che vi trasmettiamo In tre giornate Appunto Il lunedì Il mercoledì E il venerdì E in tre fasce orare Alle 8 Alle 13 E alle 20 Con il riassunto Della settimana Il sabato Alle 12 Alle 19 E domenica Alle 15 Alle 21 Lunedì sera Che anche la serata Di check up Obiettivo salute Il nostro approfondimento Condotto Da Antonio Astuti In collaborazione Con Fisioradi Medical Center Appuntamento Di questa sera Alle 21 E 20 In cui si parlerà Di protesi E robotica Con ospite Marco Fravisini Medico chirurgo Specialista In ortopedia E poi sarà Lo stesso Antonio Astuti A tenervi compagnia Domattina In diretta A partire Dalle 7 20 Con la nostra Rassegna stampa Buongiorno Rossini Che come sempre Vi tiene compagnia A partire Come dicevo Dalle 7 E 20 Si chiude Invece qui Il nostro spazio Informativo Di Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Una buona serata Per averci seguito